Lei scrive qui, io non ci sto al Green Pass obbligatorio, però lo farà rispettare. Però faccio rispettare le regole per tutelare me, la mia famiglia, per tutelare il mio locale e tutelare i clienti. Quindi diciamo che obtorto collo le tocca accettarlo. Bisogna accettarlo, sì. Prima tanto tanto, però alla fine rispetto le regole. A due giorni dell'entrata in vigore del Green Pass, l'intransigenza di quanti non lo volevano si ammorbidisce su posizioni più in linea con la stringente realtà. Questo ristoratore di Mogliano Veneto, ad esempio, pur rimanendo contrario in linea di principio e provvedimento, si dice pronto a rispettare le regole. Mia figlia ha scaricato sui telefonini nostri l'applicazione per controllare il Green Pass. Chiederò l'esibizione del Green Pass e se non ce l'hanno, purtroppo, anche per tutelare i clienti che ho in sala e che ce l'hanno, non li farò entrare. Troppo rischioso, infatti, agire con leggerezza, sorvolando sui controlli. Dal punto di vista sanitario, certo, ma per chi vive di un lavoro basato sull'afflusso sicuro di clienti in carne ed ossa, lo è anche dal punto di vista economico. Anche prendere 400 euro di multa per una cavolata non mi sembra il caso in questo periodo. Non è una cosa giusta questa cosa qua, però speriamo sia uno strumento temporaneo per poterci permettere di lavorare, anche perché io vivo con questo lavoro, non posso andare contro le leggi perché mi chiudo nel locale dopo alla fine. L'aspetto più antipatico è che l'onere del controllo spetti a noi ristoratori, dice, sapendo già che i clienti senza Green Pass arriveranno sicuramente con situazioni difficili da gestire. Questo sarà il mio timore, io cercherò di essere gentile al 100%, di farglielo capire, insomma, che se le leggi è questa io purtroppo...